Musica Due distinti operazioni per la Guardia di Finanza, arrestato l'elicotterista che trasportava cocaina in Sardegna e denunciato un evasore totale a Olbia. Si allontanano i dubbi di una possibile sconfessione del sindaco Nicola Sanna, provato il rendiconto della gestione 2017, non senza polemiche. Allarme di confartigianato Sardegna, la produzione di pane sardo, degli abusivi, minacce irregolari, il pane è uno dei prodotti più imitati. TG12 edizione serale, ben trovati, edizione che apriamo con la cronaca, lo avete sentito dai titoli del nostro sommario, arrestato la Guardia di Finanza di Cagliari, pilota dell'elicottero che trasportava la Cagliari in Sardegna, ma adesso è stato compito su ordine dell'elicottero, atterrato e decollato fuori dalle aree consentite. Alla guida del velivolo, un pluripregiudicato emiliano di 41 anni, implicato anche nel contrabbando di tabacchi nel pavese, dove, insieme ad altri due soggetti moldavi, si occupava di produrre e impacchettare le sigarette per poi introdurle sul mercato. Visti i precedenti, la Guardia di Finanza di Cagliari ha emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti del soggetto, per un valore complessivo di 500 mila euro. E siamo sulla cronaca, denunciato dalla Guardia di Finanza, legale rappresentante di una società di Olbia, del settore arredamenti e imbarcazioni di russo, che aveva evaso redditi per oltre 2 milioni di euro nell'ultimo quinquennio. Ce ne parla Sandra Sanna. Denunciato l'amministratore di una società di Olbia per evasione fiscale di redditi superiori ai 2 milioni di euro conseguiti negli ultimi 5 anni. L'attività ispettiva delle Fiamme Gialle ha riscontrato che l'azienda, che operava nel settore dell'arredamento di attività commerciali e imbarcazioni di pregio, non teneva la contabilità in modo regolare e non presentava alcun tipo di dichiarazione fiscale. L'amministratore, che deve rispondere di evasione totale, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L'imposta è vase di circa 600 mila euro e l'IVA non pagata ammonta a 400 mila euro. Il contrasto al mercato sommerso costituisce l'attività fondamentale del corpo della Guardia di Finanza perché consente di arginare la diffusione dell'abusivismo nel sistema economico a tutela delle imprese che invece operano nella piena e completa osservanza di legge. Ed ora la politica comunale. Il centro-sinistra ha approvato ieri sera il rendiconto della gestione 2017 allontanando i dubbi di una possibile sconfessione dell'operato del sindaco Nicola Sanna. No, esplicito solo di Stefano Perrone del PD, mentre i consiglieri monogruppo era e manca si sono limitati all'astensione. Critica all'esecutivo da Pierpaolo Bazzoni del PD. Sentiamo Luca Foddai. La maggioranza di centro-sinistra a Palazzo Ducale dice sì al rendiconto della gestione 2017. La seduta del Consiglio Comunale di martedì pomeriggio non ha riservato sorprese, date per possibili dopo le spaccature emerse nel gruppo DEM e ricomposte con l'approvazione all'unanimità nei giorni scorsi da parte di Direzione e Assemblea Cittadina del PD di una roadmap per la conclusione del mandato. Un anno ancora di amministrazione sanna con alcuni nodi che dovranno essere sciolti prossimamente. Il primo è quello del nuovo Assessore alla Cultura, la cui nomina era stata data per imminente dallo stesso primo cittadino e che invece ancora non c'è stata. Ma soprattutto i prossimi mesi saranno decisivi in vista del doppio appuntamento elettorale del 2019, quando si dovrà votare prima per la Regione e poi in primavera per il Comune. Il centro-sinistra, dice, il PD sarà chiamato a scegliere il candidato sindaco con lo strumento delle primarie. Nessuna ricandidatura automatica per Nicola Sanna, quindi. Ieri, il rendiconto 2017, è passato quindi senza colpi di scena. A parte le parole esplicitamente critiche di Pierpaolo Bazzoni, PD, manca la programmazione, credo che in questi quattro anni la città non abbia avuto uno sviluppo gratificante, e il distingo dei consiglieri monogruppo Franco Ere e Marco Manca, su tante cose siamo rimasti indietro? Al termine della discussione tutto il centro-sinistra ha detto sì al rendiconto, con Stefano Perrone, PD, che ha votato contro, ed era e manca che si sono astenuti, insieme a Marco Boscani, gruppo misto di minoranza, mentre l'opposizione ha bocciato la pratica. Lavoro, sanità, turismo, cultura e ambiente sono temi che passano in secondo piano. Prima vengono quattro anni di giochi politici, utili solo ad inchiodare la poltrona a Palazzo Ducale, il commento di Desiree Manca, Movimento 5 Stelle. Qui c'è aria viziata, ha detto Manuel Alivesi, Forza Italia, mentre Giancarlo Carta, fratelli d'Italia, ha ricordato le troppe opere incompiute e i servizi sociali in crisi. Un ginepro come simbolo di speranza è rinascita, è l'albero trapiantato a Sassari per inaugurare il nuovo centro diurno polifunzionale, che fa capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile della Sardegna. La struttura, realizzata all'interno del polo dei servizi minorili di Viale Papa Giovanni Paolo II, è già attiva e ospita il laboratorio di writing e il progetto di recupero scolastico. Sono inoltre in fase di definizione il progetto sulla legalità, i seminari sullo sport e il rifacimento del campo di basket all'aperto. All'inaugurazione oggi hanno partecipato il direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna, Gianpaolo Cassitta, il capo Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità, Gemma Tuccillo, il direttore generale del personale delle risorse per l'attuazione dei provvimenti del giudice minorile, Vincenzo Starita, l'assessore delle politiche sociali del Comune di Sassari, Monica Spanedda e numerose autorità civili e militari. Cambiamo argomento. Allarme di confartigianato per la produzione di pane sardo. 3.000 quintali al giorno vengono prodotti e venduti dagli abusivi. Il pane è uno dei prodotti sardi più copiati e venduti in nero. Sentiamo. In Sardegna sono 930 le attività di panificazione di prodotti freschi, un sistema costantemente sotto attacco da parte della concorrenza sleale degli abusivi, che quotidianamente sforna circa 3.000 quintali di prodotto per un totale annuo che sfiora le 110.000 tonnellate. E l'allarme è lanciato da confartigianato in prese Sardegna, sottolineando come il pane sardo o no nell'isola sia uno dei prodotti maggiormente copiati, prodotti e venduti in rivendita in nero, sulle strade all'aperto e durante manifestazioni ed eventi oppure online. In questo periodo, anche con l'intensificarsi delle cerimonie, come i matrimoni o lecresime, il fenomeno è ancora più grave. Per confartigianato Sardegna è necessario proteggere l'attività di panificazione e migliorare l'informazione al consumatore, la sua salute e soprattutto è fondamentale tutelare le imprese, che anche in questi anni di crisi e calo dei consumi hanno comunque tenuto con forza e determinazione sorrette dalla loro qualità. Sopravvivenza messa in pericolo però negli ultimi anni, non solo dalla concorrenza del pane precongelato nei supermercati, ma anche dalla concorrenza sleale di quello fatto in casa, poi venduto dappertutto. Si chiama Distretto Torres, dello strumento con cui il nord-ovest dell'isola punta a diventare un laboratorio di ricerca internazionale in tema di Smart Energy. Il progetto, primo in Sardegna tra quelli previsti dal piano energetico, ambientale e regionale, nasce dalla collaborazione tra i comuni di Sassari, Portatore Salghiero, e il consorzio industriale provinciale di Sassari, promotore dell'iniziativa e che si candida come attuatore. Attraverso questo strumento il territorio potrà posizionarsi in testa nel fondamentale tema dell'energia intelligente, identificato dall'Unione Europea tra gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. Cambiamo argomento, da ieri in città siamo a Sassari, il nuovo baby pit stop negli uffici comunali di Via Venezia. Sentiamo Marina Sanna. Inaugurato ieri negli uffici settori attività educative, giovanili e sportive del comune di Sassari di Via Venezia 2, un nuovo spazio dedicato alla cura dei bebè e all'allattamento. Il baby pit stop Unicef è stato realizzato dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con il settore e con il contributo di FIDAPA, sezione di Sassari, Inner Wheel, Sassari Castello e con il patrocinio dell'Unicef provincia di Sassari. Il baby pit stop offre gratuitamente un luogo di cura accogliente per mamma e bambini, in cui trovare una comoda poltroncina per l'allattamento e una zona attrezzata per il gioco, un bagno con un fasciatoio per il cambio a disposizione dei genitori o di chi si prende cura del bebè. La promozione dell'allattamento al seno è considerata da tempo una priorità di salute pubblica, sancita dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È quindi importante sostenere l'allattamento al seno sia per le madri sia per i bambini. Il luogo per il baby pit stop è stato scelto con attenzione. Il settore attività educative, giovanili e sportive del comune di Sassari eroga servizi dedicati prevalentemente a famiglie con bambini. Vicino agli uffici di Via Venezia, inoltre, ha sede il parco di Via Venezia, molto frequentato dalle famiglie. Lo spazio sarà a disposizione negli orari di apertura degli uffici dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Ed ora ci fermiamo un istante per un breve break pubblicitario. Troviamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Grazie a tutti. Torniamo in studio con la pagina sportiva. Con i primi arrivi delle nazionali sta per prendere il via il 23esimo torneo città di Sassari di lotta. Ce ne parla Ico Ribichesu. Si scaldano i motori dell'organizzazione Athlon che vede i nastri di partenza il 23esimo torneo internazionale di lotta libera maschile e femminile e greco-romana con l'appendice domenicale del bici wrestling che si disputerà sulla spiaggia della Pelosa Stintino. Già da ieri si sono registrati i primi arrivi delle nazionali che grazie all'Atlon potranno fruire di clinica appositamente studiati come approccio sia alla gara e che serviranno come ulteriore preparazione in vista degli appuntamenti mondiali in ottica Olimpiade. 26 nazioni rappresentate con il top degli atleti che ormai vedono il Tournament of Sassari come luogo ideale per completare la loro stagione. Un'occasione importante anche per il territorio che può mettere in vetrina le sue eccellenze e i due comuni di Sassari e Stintino possono vantare il fatto che destagionalizzare si può. Basta avere il supporto di organizzazioni che vantano credito internazionale come appunto l'Atlon Sassari. Si parte venerdì mattina dalle ore 10 con la fase delle eliminatorie sulle tre materassine e dalle 16 inizio le finali su una sola pedana di gara. Lo spettacolo è assicurato solo dal fatto che al Palazzo Radimini lotteranno atleti con palmeres d'oro e medagliati olimpici. L'ingresso è libero per tutta la durata e l'evento. Si è disputata la quinta prova del campionato sardo di motocross Asi nella nuova pista di Fertilia inaugurata per l'occasione. Vediamo il servizio. Si è svolta domenica 20 maggio la quinta prova del campionato sardo di motocross Asi nella pista MX Fertilia in località Fighera, a fianco pista dell'aeroporto civile. La manifestazione è stata organizzata dal motoclub Portoferro. Dopo le prove libere alle 11.30, 84 piloti distribuiti nelle varie categorie, agguerriti più che mai, si sono dati battaglia nel tracciato inaugurato proprio con la gara di domenica. Le categorie 65 cm3 ed Expert MX1 vanno ai piloti di casa con due bellissimi primi classificati del numero 29 Cristian Salvatore e del numero 921 Marco Barria. Inoltre, se siete in possesso di un decoder sky, ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento è con le notizie nazionali curate dall'aggine di stampa DN Cronos. Invece l'informazione di canale 12 torna, come sempre, domani mattina alle ore 7 con il rullo informativo ITG alle 14, alle 19 e 45. A me non resta che ringraziarvi per averci scelto e augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Arrivederci.